perso ganciate che caglia una balla mamma mia ciao a tutti i ragazzi di Olsztyn mio nome è Moritz Kalicek e sono molto felice di essere un nuovo giro per Olsztyn dopo la mia season con la squadra nazionale durante il settembre faccio il mio nuovo chapter in Olsztyn e spero che possiamo avere una buona buona season e share alcune buoni momenti insieme in il gym see you soon grazie